Buonasera a tutte e benvenuti ad una nuova puntata del Medioriente dintorni show Vi dico tutte le volte che non parliamo di libri e poi puntualmente parliamo di libri anche oggi, anche oggi Però parliamo oggi di Hashuma, Manifesto per una liberazione sessuale della scrittrice Zeneb Faziki Questo in realtà più che un libro ve lo faccio vedere fin da subito anche perché come al solito non vi farò in realtà vedere tutto questo granché Perché sono abituato a concentrarmi su altro, ecco parla di tutta una serie di altre cose Più che altro è un mix fra una graphic novel e un fumetto vero e proprio come vedete Quindi c'è veramente di tutto e poi ci sono anche appunto dei testi che si uniscono a delle immagini di base Lo metterò anche qua così si vede di più, almeno per questa volta Come al solito prima di partire appunto con il video vi ricordo una cosa molto importante Ma conviene anche a voi iscrivetevi al canale Telegram, i migliori intintorni per essere sempre aggiornati su quello che esce Intanto perché questo articolo era già uscito da mo' Ma poi perché così saprete subito e diciamo prima degli altri quando esce una determinata cosa eccetera E fra l'altro prossimamente è previsto un libro legato alla Palestina Nel senso che questa scrittrice palestinese si immagina che a un certo punto tutti i palestinesi scompaiono E si va un po' a vedere cosa succede ad Israele che sarà molto molto interessante E io lo sto ancora leggendo quindi non è ancora il caso Oggi ci concentriamo su Hashuma Partendo fra l'altro dalla parola Perché secondo me questa parola che è veramente importante all'interno del testo Super presente, super evidente eccetera come Hashuma È la parola che sintetizza in un certo senso il tutto naturalmente Hashuma in dialetto marocchino vuol dire vergogna E io in realtà più che alla vergogna di fatto e basta L'ho legata a qualcos'altro Non so se tecnicamente è giusto Però io penso che corrisponda ancora di più alla società della vergogna E per spiegarvi cosa intendo vi faccio un brevissimo esempio Se voi volete magari fare qualcosa che dalla vostra famiglia è vista come una cosa sbagliata Però dalla legge anche vista come una cosa sbagliata ok Voi potete facilmente bypassarlo Facciamo un esempio Anche se qua non parla quasi mai di omosessuali Gli accenna eccetera Sono sempre magari un po' presenti Però ecco non parla tanto di quello Parla più che altro della figura della donna Ma facciamo finta Una coppia di omosessuali marocchina ok Si scopre che entrambi si amano eccetera E quindi vogliono sposarsi Il Marocco ovviamente non permette il matrimonio Allora uno cosa fa? Vai in Spagna, vai in Olanda Risolve No Perché naturalmente è benissimo presente Tutto il senso di vergogna eccetera Che si riversa sulla famiglia Si riversa su coloro che stanno facendo qualcosa Che dal mio punto di vista è lecitissimo Ognuno è libero di fare quello che vuole Ok? Perché loro non potranno poi invitare i genitori in quel caso Dovranno essere molto attenti a dire determinate cose Non si dovrà venire a sapere troppo in giro Perché? Perché è una cosa illegale? No Perché il punto, il problema è che la famiglia non accetterebbe mai E questo rientra in un certo senso appunto In quella società della vergogna Che in questo libro è affrontata profondamente Prima di iniziare a parlare proprio un po' più del testo Nello specifico Ci tengo a specificare una cosa che è molto molto importante Che è la scrittrice ribadisce praticamente in ogni pagina Ovvero che lei non è in nessuna maniera Né contro la religione né contro la cultura Ognuno dal suo punto di vista può fare quello che vuole Ed è sacrosanto E anzi doveroso Che chi si sente particolarmente vicino a Dio O se vuole avvicinare a lui Segua quello che il suo Dio gli dice Ok? Quindi a questo punto di vista assolutamente Se uno si sente più a suo agio appunto Avendo un certo tipo di cultura eccetera Ognuno è libero di fare quello che vuole Ma appunto ognuno deve essere libero di fare quello che vuole Perché ci sono tantissime altre persone Che magari vogliono vivere la religione in maniera diversa Oppure che vivono in Marocco Ma non sono né musulmani né dei ricchissimi signori E quindi fra una cosa e l'altra sono obbligati a seguire una religione Che in realtà non gli appartiene O che magari hanno deciso appunto di rifiutare Anche se naturalmente anche questo non è il tema di oggi Ma dalla società marocchina a quanto capito Certo Si sono fatti dei progressi Ma non è esattamente una cosa bellissima Ma tornando a noi ovviamente le cita anche Pur non essendo loro il centro del dibattito oggi Ma anche la comunità LGBT Che naturalmente ha il problema che qualsiasi cosa faccia Essenzialmente può essere addirittura messa in carcere Pensate che se andate in Marocco e fate tutta una serie di cose Di luogo pubblico Ovviamente se fate a Marrakesh o fate a Benny Mellel È molto diverso Ma tecnicamente potete rischiare di andare dai sei Dai sei mesi scusate Ai tre anni di carcere Quindi non esattamente il massimo Questo libro ripeto si lega soprattutto alla figura della donna E la figura della donna è veramente centrale in tutto il romanzo E in tutto il romanzo e in tutto il testo In quanto lei a parte che essendo donna vive diciamo queste cose in prima persona Ma poi dice una cosa che purtroppo è verissima E questa l'ho potuta verificare Fortunatamente l'ho verificata in maniera light Non in maniera estrema Ovvero il fatto che ancora oggi Il fatto che banalmente una ragazza sia vergine o no Oppure che metta dei vestiti o non li metta Cambia tutto Tutto ma letteralmente tutto In quanto non si capisce esattamente perché Ma la donna è proprio vista come l'emblema della famiglia Quindi essenzialmente Lei prende anche in giro Però è vero Cioè l'uomo tendenzialmente Può fare quello che vuole da quel punto di vista lì Basta che sta attento magari a non andare con delle musulmane Se proprio vuole essere preciso e schizzinoso Però tutto sommato Anzi il fatto che lui sia stato con questa ragazza Con quest'altra è quasi un motivo di vanto Ma anche con i genitori Ah guarda quel mio figlio che conquista Eccetera parte lì qua di là Certo che se naturalmente invece è la ragazza Allora ci sono dei problemi Fra l'altro senza mai pensare che Se uno va con delle ragazze Tendenzialmente Ci sarà un membro di un'altra famiglia Che potrebbe avere qualcosa da dire Come quello lì Non è contento se sua figlia fa determinate cose Ma questi sono dei dettagli Un po' di ipocrisia Li lasciamo perdere Perché non ci interessano onestamente oggi Diciamo che la cosa veramente importante e seria È che purtroppo Per via di queste cose La donna viene giudicata essenzialmente Per qualsiasi faccia Quindi Se si ha Non so se ha il velo Se non ce l'ha Se si mette certi vestiti Se non se li mette Se se li mette troppi Se se ne mette troppo pochi Oltre al fatto che naturalmente Come vi dicevo La questione della verginità Non è un dettaglio marginale Ancora oggi In molte città Ma anche in molte famiglie Onestamente del Marocco E non solo Perché questo libro Si rivolge a tutta la regione Mena E ci sarebbe anche Da fare un discorso Tipo sul Pakistan Questi paesi qua Ma lo lasciamo perdere per oggi Perché Non è il tema di oggi Dove appunto Se tu sei vergine o no Cambia tutto Come vi dicevo Inutile dire ad esempio Che ancora oggi Purtroppo Seppur sono dei casi Sempre più rari Ci sono dei casi Nei quali La figlia viene uccisa Da dei membri Della propria famiglia Proprio perché Lei non è vergine E non essendo più vergine Ha di fatto Disonorato la famiglia Quando peraltro Lei lo spiega anche qui Io questo onestamente Non essendo donna Non lo sapevo In maniera così approfondita Però ecco Racconta ad esempio Che Limene È una membrana E che quindi Non è detto che Quando uno ha Un rapporto sessuale Si rompa Ok Perché magari È una membrana Molto elastica È una membrana Molto resistente E quindi Paradossalmente Una ragazza Può aver avuto Dei rapporti sessuali Anche vaginali Ed è vergine Tecnicamente Visto che conta quello Mentre magari Una che non ha mai Avuto un rapporto sessuale Né niente Visto che ce l'ha Un po' più fragile O cose di questo tipo Cammina un po' Adesso sto esagerando Ovviamente E Gli si rompe L'imene E quindi Per un maggio Non è più vergine Chissà con quanti uomini Sei stato Magari con nessuno E fra l'altro Ecco Questo invece Io conosco Per esperienza diretta Proprio per via Del fatto che È importante Solo quella membrana C'è tutta Una parte Di ipocrisia Terrificante Vi faccio un esempio Cartino legato Alla mia vita Personale Una delle prime Ragazze Che Con le quali Mi sentivo Era questa ragazza Tunisina Ok E lei Sostanzialmente Non è che Sai Aveva il velo Eccetera Quindi certe cose Non le affrontavi mai Diciamo che Era un po' Al centro dei suoi pensieri Tutto questo Soltanto che Lei aveva avuto Un piano Geniale Per rimanere Vergine Lo facciamo Anale Così Da un punto di vista Tecnico Io rimango Vergine Però capite che Cioè nel momento in cui Importante è solo Quella parte lì Allora diventa Tutto un po' Una barzelletta Perché naturalmente Cioè La virginità Dovrebbe essere Se uno vuole Idealizzarla Per un concetto Di purezza In assoluto Non un concetto Veramente fisico Peraltro Sappiamo tutti Che al giorno d'oggi Ci sono delle operazioni Anche abbastanza costose Che permettono A una donna Di ricostruire L'imene Quindi allora Li prepariamo Nel ridicolo Più totale Perché Veramente Tutto ciò Perde di Qualsiasi senso Ma onestamente Il senso Per quanto mi riguarda Non ce l'ha mai avuto Perché è veramente Come al solito Un modo di giudicare L'essere umano Veramente ridicolo Squalido È stupido È stupido Oltre al fatto Che Ripeto Come vi ho appena Spiegato Anche tecnicamente Non ha senso Perché da quel fatto Lì Non capisci In realtà Un bel Niente L'unico modo Per capire determinate cose È parlare Con la persona Interessata Poi Ognuno Faccia quello Che vuole Naturalmente Però dal mio punto Di vista Non è Nemmeno un motivo Particolare Ma Torniamo a noi Stavo parlando Di quello Poi mi sono lasciato Incantare Da questo aspetto Un'altra delle cose Molto interessanti Per capire il concetto Di punto Heshuma Quindi Fra virgolette Cultura della vergogna Almeno come lo intendo dire io È questo Nel libro Spiega che In dialetto marocchino Ovvero in Darija Non esistono In realtà Delle parole Fra virgolette Neutre Mediche Diciamo così Per definire Il pene E la vagina Quindi è un po' Come se in italiano Non esistesse La parola Pene E vagina Ma esistesse La parola Cazzo E figa E basta Questo fa sì Che Diciamo La gente Sia ancora meno Incentivata A parlarne Ad esempio A tavola Perché non è un linguaggio Fra virgolette Neutro È un linguaggio Dove tendenzialmente Stai quasi insultando No È un po' come noi Testa di cazzo Che bella figa Che per carità Sono degli insulti Abbastanza velati Rispetto alla fantasia italica Però Ecco Sicuramente Sono delle cose Abbastanza più volgare Se tu vai a una cena Molto raffinata Tendenzialmente Provi ad evitare Determinati linguaggi Provi ad essere un po' più Tecnico Un po' più distaccato In Darija Questo non c'è Ma in generale Non c'è neanche Nella società marocchina Perché a quanto ho letto È proprio una roba Complicata Tecnicamente Parlare ai propri genitori Non del fatto che Che ne so Tu hai avuto un fidanzato No no È proprio addirittura Vergognoso Chiedere come funzionano Determinate parti del corpo Ok Che è una roba Assurda Visto che Se tu non lo sai Ebbè potrebbero crearsi Dei problemi E vi faccio un esempio Che avviene anche in Italia Ma qua ancora di più Palesemente Ovvero Raggiunta l'età Più o meno Novità Andrei ad approfondire Da qualche parte E tendenzialmente Se non hai gli strumenti Per capire Cosa può essere più adatto A te Cosa può essere più intelligente Eccetera Ricadi nel porno Che è una visione Molto falsata Di quello che è Un rapporto sessuale Perché È Uno show Quindi non è il suo Obiettivo Istruirti Riguardo a cosa bisogna fare Il rispetto che bisogna avere Eccetera È uno show Quindi Quanto più Diciamo Tu Fai vedere Delle cose particolari Fai vedere cose estreme Strane Eccetera Quanto più Attrai la gente Ma come qualsiasi Show televisivo E questo fa sì che Tendenzialmente I giovani marocchini Ma non solo Abbiano una visione Abbastanza falsata Di tutto quanto Cosa che Crea anche dei problemi Perché lei Tra l'altro È molto intelligente Perché Non è che azzecca Lei Certo che dice le cose giuste Ma dice anche delle cose Interessanti e sottili Vi faccio un esempio C'è molta gente Che Alhamdulillah Per lei Ci mancherebbe altro Ma si sposa Molto in fretta E Ci sono quelli Che si sposano Perché hanno trovato L'anima gemella Quindi con la quale Possono passare vita insieme Amore Rispetto Cose fantastiche E tutto Ma c'è gente Che si sposa In fretta Perché vuole essere Il bravo musulmano O la brava musulmana E Rischia di essere La coppia La coppia tendenzialmente Andrà incontro Quanto meno Un po' Di frustrazione Perché ognuno Vuole ottenere qualcosa Dall'altro E vede che invece L'altro Da quel punto di vista Parla proprio Una lingua Completamente Diversa Per carità Dal mio punto di vista Chi fa una scelta del genere Lo fa Conscio anche di questo fatto Però Chi invece lo fa In maniera più superficiale Può andare veramente Incontro a delle situazioni Che non sono belle Perché purtroppo Quella è una parte Molto importante Di noi esseri umani E quindi Se non viene adeguatamente Soddisfatta Può anche finire Con un divorzio Che per carità Non muore nessuno Non succede niente Però è una cosa Un po' Pesante Tra l'altro Ecco Sempre per andare In ordine logico Quindi attaccando I veri temi Anche se non sono In quest'ordine Nel libro È specifico Naturalmente Come faresti allora A capire Fra virgolette Se entrambi Non siete Veramente super religiose Eccetera Però comunque È una cosa che ci tenete Quindi Appena capito Diciamo che la compatibilità È totale Volete poi Il matrimonio Come fate Quindi a capire Se siete compatibili Da un punto di vista Sessuale Beh naturalmente Di solito Avendo un rapporto Sessuale Ma Il problema È che In Marocco Così come Anche in altri paesi Non è una cosa Così semplice Mi spiego un po' meglio Io Quando sono andato in Marocco Dovevo intervistare Addirittura Pensate Nel 2019 Quest'attivista Che fa parte Del collettivo 490 Outlaw Outlaw 490 Anzi Che è un collettivo Marocchino Che si batte Per Il cancellare Appunto Questa legge Che si chiama 490 Questa legge È una legge Dal mio punto di vista Veramente Particolare Abbastanza Assurda Nel senso Che Essenzialmente I poliziotti Devono avere Quando vedono Che ci sono Dei tizi Che vanno in un albergo Tutto l'elenco Delle persone Che soggiornano Lì Ok L'elenco Di ogni singolo Soggiornatore Diciamo così Ok E quindi Se loro vedono Che I nomi Non sono Cioè Se i nomi Sono tutti Diciamo stranieri Non c'è problema Può anche Non essere sposato Ma Ma Se loro vedono Che nei documenti Ci sono due Che Non sono sposati E uno È marocchino O anche Semplicemente La doppia cittadinanza Cosa del genere Loro sono Autorizzati A venire Al vostro Appunto Alla vostra camera Prendervi A entrambi Portarvi In questura E eccetera E Essenzialmente Mettervi anche in carcere Poi non so Esattamente Le pene In cosa Consistono Ma ho letto Di gente Che semplicemente Per essere andato In camera Con la fidanzata Poi è stato Diversi anni Anche in carcere Spero per lui Che avesse fatto Anche qualcos'altro Perché se no È terrificante Però questa legge Cioè Questo L'unica cosa Certa è che Questa legge Cioè E che quindi Se tu Vuoi avere Una vita sessuale Fra virgolette Normale O comunque Diciamo Un po' più Libera Rispetto a quello Che Magari Vive la media In marocco Allora È veramente Complicato Perché Tendenzialmente Dovrai proprio Corrompere La polizia Oltre al fatto Che appunto Questo fatto Già semplicemente Di pensare Ah Quindi io devo Corrompere Non è il massimo Anche perché poi Ebbè È un altro Problema sociale Incredibile Però È un problema Difficile Se no Da affrontare In quanto Sei in una casa tua E sei intelligente Perché Magari Dice una persona Viene allora X Eccetera Non succede niente Ma se tu Poco poco Non hai un appartamento Tuo Devi andare Altrove Può Veramente Nascere Un problema Un problema Gigante E questo Dice fatto È uno degli aspetti Ma ce ne sono Un sacco di altri Questo libro È bello Perché sono 120 pagine Ma veramente Vi mette dentro Di tutto Vi mette dentro Di tutto Anche in maniera Molto precisa Anche con delle proposte Serie concrete Perché poi Non è che Questo è uno sfogo Suo e basta È chiaro che lei Poi come si legge Anche nella biografia Ha avuto un'esperienza Anche traumatica Da questo punto di vista E quindi Ha maggior ragione Di fatto Ha un linguaggio Veramente Bello Perché Di una Che ha delle idee Delle idee forti Vuole fare tutto Ma questo è il libro Che è adatto a tutti Ed è un libro Soprattutto che Ripeto In 120 pagine Se vi faccio vedere Proprio La sottilezza Di questo libro Vi dà Non solo Dei concetti Seri interessanti Ma vi fa proprio Riflettere Su tantissime cose Che normalmente Io stesso Per primo Non rifletto Non penso Ma che hanno Un effetto Incredibile All'interno della società Ed essenzialmente Lei si batte Come vi dicevo Semplicemente Perché Sia possibile A chi Ripeto Non vuole Perché poi c'è anche Tanta gente Che addirittura Se tu costringi Molti l'han già visto Il mio tatuaggio Non lo faccio rivedere Ma io ho un tatuaggio Nel quale c'è scritto Lei e Krah Hafi al-Din Che tra l'altro È un versetto del Corano Ma lasciamo perdere E il concetto Che Diciamo Al quale io sono molto legato È il fatto che Se tu costringi Una persona A fare qualcosa Contra la sua volontà Tendenzialmente Non apprezzerà Quello a cui tu La costringi Faccio un esempio Se tu costringi Una a fare il Ramadan E lui non lo vuole fare Per carità Può anche essere Che se ne innamori E tutti speriamo questo Io in primis Da musulmano Eccetera Però Ecco Sono nettamente maggiori Le probabilità Che poi gli faccia Ancora più schifo Perché lo vedi Come un'imposizione Non è una cosa Che ha scelto lui Di fare È una cosa Che gli è stata obbligata E quindi lui magari Vorrebbe mangiare Non capisce il senso Di tutto questo Non lo vuole capire Sviluppa ancora più L'antipatia E questo paradossalmente Lo allontana addirittura Dal Islam Perché Sono certe cose Che secondo me Tu devi fare Con la tua testa Devi fare con i tuoi Ragionamenti E devi arrivarci Con i tempi tuoi Se uno ti obbliga A fare una determinata cosa Può solo causare Dei problemi E fra l'altro Vi faccio anche Un esempio Classico Se tu costringi Una persona Ad andare contro La sua natura Perché noi tutti Esseremani Siamo inclini A sviluppare cose del genere Quindi inclini Ad avere una sessualità E inclini Ad avere anche Determinati piaceri Poi il rischio Veramente alto E purtroppo Si verifica sempre più spesso Ed è ormai una regola Se tu prendi una molla E la Tiri sempre di più Di più Di più Di più Di più Alla molla Basterà veramente Un istante Per esplodere quasi Ok E questa è la stessa cosa Che succede Con chi Appunto Magari avrebbe Un'inclinazione Avrebbe desiderio Di fare qualcosa E viene detto sempre di no Addirittura dalla legge A un certo punto Può essere che esploda Naturalmente Ripeto ancora una cosa Che ho già detto All'inizio del video In questo Libro Non è che Zeneva Faziki Dice Oh Il mio sogno È vedere Non so Che in Marocco La gente fa sesso In mezzo alla strada Tipo che uno passa Che bella ragazza Ma io io E ci faccio tutto Quello che voglio io O L'equivalente Diciamo Una ragazza Con un ragazzo O Due uomini O due donne O quelle che volete Assolutamente No Ripeto Il suo obiettivo È semplicemente Fra virgolette Far capire Intanto che sono delle cose Che a prescindere Da quello che uno vuole fare Sono oggettivamente Delle assurdità Nel codice giuridico Marocchino Due Avere appunto Delle soluzioni diverse Per fare quello Ma ancora di più Proprio Permettere ad ogni marocchino Di essere Quello che è In realtà Non soltanto ogni marocchino O ogni abitante Della regione Del MENA Essere libero Di fare quello che vuole E a maggior ragione Proprio perché è libero È necessaria Un'educazione sessuale Questo diciamo È uno degli aspetti Che io ho notato Che è sempre presente All'interno di questo libro Magari un po' di sottofondo Eccetera Però c'è veramente sempre Perché anche dal mio punto di vista La cosa più importante In assoluto Sarebbe sviluppare Un'ottima educazione sessuale Che insegni il rispetto Che insegna Cos'è veramente Un rapporto sessuale Insegna ad avere consapevolezza Insegna ad avere anche Rispetto per il proprio corpo Perché anche qui Non è che i rapporti occasionali Sono la cosa più idilliaca Della terra Sia da un punto di vista fisico Perché naturalmente Aumenta incredibilmente Il rischio di malattie O cose di questo tipo Sia naturalmente Da un punto di vista Spirituale Perché naturalmente Se sei una persona Se sei una persona Che per te è un oggetto E tu sei un oggetto Per quella persona Vi svuotate un po' A proprio livello di anima Ed è una delle cose Meno belle Vi assicuro In assoluto Però certo Se tu hai l'idea Che il sesso È quello dei porno È per fare solo Lo stesso occasionale Tendenzialmente Oppure serve proprio Una persona che Ti intriga E ti colpisca Eccetera Un'educazione sessuale È imprescindibile Per qualsiasi paese Civile Dal mio punto di vista Non perché Insegna la gente Ah Così puoi diventare gay Parete che è una roba Diciamo interiore Eccetera Quindi non è che uno diventa Diciamo che uno Può avere delle inclinazioni E queste possono Diciamo svilupparsi A un certo punto di più No ma non è un discorso Di omosessualità Io ho già parlato Nel video della più piccola Vi invito a recuperarlo Perché è anche abbastanza Recente Ma il discorso è che Se tu educa La sessualità Rendi le persone Più consapevole Di quello che stanno facendo E saranno più attenti A fare quello che stanno facendo Magari qualche volta Faranno anche dei test E ci mancherebbe Tutti noi esseri umani Facciamo dei test Tutti noi esseri umani Facciamo ancora di più Delle cavolate Ancora più che Dei test Ok Però Se tu Non sai Non sperimenti Non sai niente Ti troverai sempre Impreparato E Allo momento del dunque Sicuramente mancherai Di qualcosa Per carità Speriamo che sia Semplicemente una Non abilità Ok Ma se già manca Il rispetto Ma se già manca L'empatia Ma se già manca La consapevolezza Di quello che stai facendo I risultati possono essere Gravi Tanto gravi E avere Tante pesante Ripercussioni All'interno Non solo di te stesso Ma all'interno Della società Perché le cose Si fanno insieme Ok Almeno due persone Detto ciò Il video di oggi Finisce qui Spero veramente Di avervi interessato Spero di avervi colpito Noi ci vediamo Settimana prossima Con un video Appunto Che dovrebbe essere Riguardo a Ibtisem Azem Il libro della scomparsa Dico dovrebbe Perché Non l'ho ancora finito Sarò a pagina Non so 30 Nel momento in cui sto leggendo Per carità Ho un libricino E ho due settimane Però Inshaallah Dovrebbe essere Appunto Ibtisem Azem Il libro della scomparsa Adesso vediamo Detto ciò Io vi saluto veramente E noi ci vediamo Alla prossima Alla prossima